buongiorno a tutti amici di le fonti tv e bentrovati dopo la nostra sigla questo speciale appuntamento e chart tv week la settimana che le fonti tv organizza sta organizzando dedicata al mondo del lavoro dove abbiamo la possibilità di parlare con responsabili delle risorse umane parleremo proprio di lavoro questa è la parola chiave chiaramente declinandolo sotto tanti aspetti partiamo da una premessa prima di introdurvi i miei ospiti per questa tavola rotonda naturalmente negli ultimi due anni prendiamo gli ultimi due anni come riferimento siamo soliti utilizzare un'altra parola che è quella di cambiamento anche il mondo del lavoro è cambiato moltissimo e allora abbiamo due aspetti da una parte si è verificato che ci sono sempre più persone che tendono ad abbandonare il posto di lavoro o a scegliere il posto di lavoro solo se questo corrisponde alle loro aspettative cioè a quello che vogliono veramente fare nella vita dall'altra parte ci sono le aziende che spesso hanno difficoltà a reperire persone che svolgano determinate mansioni per raggiungere i loro obiettivi questo rischia questo insomma se mettiamo sul tavolo questi due aspetti i due aspetti rischiano di creare una sorta di cortocircuito un circolo vizioso no attraverso il quale le aziende in primis non hanno la possibilità di fare un diciamo un lavoro in prospettiva futura ma di poter agire solo di giorno in giorno e allora ci sono delle nuove sfide per le risorse umane partiamo da due risorse essenzialmente investire sulla crescita delle competenze e il coinvolgimento delle persone che già sono presenti in azienda quindi riconoscere i talenti che ci sono a disposizione secondo aspetto monitorare attentamente il livello di soddisfazione e di conseguenza quindi di performance nelle fasi della vita aziendale con particolare attenzione selezione onboarding e primi mesi dell'azienda quindi insomma valutare un po' le competenze che si hanno appunto a disposizione ogni giorno oggi insieme a aperelle formazione aperelle spa vi introduco insomma realtà specializzate in attività di consulenza e char formazione ricerca selezione proveremo a capire come effettivamente si possano affrontare queste nuove sfide aziendali e come sia possibile valorizzare il capitale umano perché questo secondo me mio modesto parere è un punto da cui bisognerebbe sempre partire e allora intervengono qui con me in studio li vado subito a salutare e ringraziare per essere con noi claudio fortunato responsabile nazionale aperelle formazione grazie grazie e bentrovato grazie mille paolo corrà responsabile nazionale politiche attive aperelle grazie benvenuti grazie ed è importante avervi qui in presenza in studio perché appunto insomma sono temi di cui si parla sempre ma noi oggi cercheremo di arrivare a un dunque cioè a degli elementi concreti che possono farci capire come queste nuove sfide devono essere accolte allora io partirei da paolo perché domanda generale mi piacerebbe capire che tipo di evoluzione state osservando proprio nel mercato del lavoro italiano io ho detto che ormai siamo soliti utilizzare la parola cambiamento no grazie manuela per la domanda allora sicuramente quello che abbiamo visto facendo riferimento agli ultimi due anni che hai citato tu è stato un trend un po ad otto volante nel senso che noi nel 2020 durante il lockdown abbiamo cominciato ad ipotizzare una forte emorragia occupazionale emorragia occupazionale che non non si è rivelata tale al termine del periodo pandemico anzi le mutate condizioni economiche hanno portato ad una forte richiesta di personale da parte delle aziende perché c'è stata una ripresa veramente significativa questo è quello che osserviamo da parte delle nostre aziende clienti quindi la ricerca costante di figure professionali tecnico specialistiche manageriali per portare avanti quelle che sono le sfide del futuro le nuove commesse che guardano al futuro al contempo osserviamo anche un fenomeno già ampiamente tracciato dagli studi specializzati che è quello della scelta personale delle preferenze comportamentali dei lavoratori che hanno vissuto questa fase della pandemia e che a livello proprio globale perché è un fenomeno registrato in molti paesi stanno un pochettino riportando al centro alcuni aspetti che riguardano la vita privata e la vita privata quindi la possibilità di lavorare con determinate metodologie di poter lavorare per obiettivi in smart work in organizzazioni flessibili e che capiscano il valore di queste forme miste di lavoro quindi da una parte la forte richiesta di personale dall'altra adesso in italia credo non ancora a questi livelli il fenomeno delle grandi dimissioni e delle scelte personali io credo che sia molto importante ricomporre questi due aspetti innovando le organizzazioni e mettendo i lavoratori nelle condizioni diciamo anche di raccogliere quelle che sono le grandi sfide di next generation you che sostanzialmente questa questo grande finanziamento con cui l'europa scommette di nuovo sull'italia 191.5 miliardi di euro con cinque emissioni ma due capisaldi molto importanti la conversione green e lo sviluppo delle competenze digitali due temi su cui il nostro paese deve riuscire a fare la differenza nei prossimi cinque anni deve diventare un paese più moderno più innovativo e che riesca ad attrarre poi questo credo che automaticamente potrà consentire sempre che riusciamo a portare a termine questa sfida anche alle persone che oggi magari non accettano posti di lavoro e si dimettono invece di poter accettare più facilmente perché probabilmente ci saranno più posti di lavoro adatti a una platea più ampia di persone immagino no è un processo che va assolutamente in modo automatico credo però adesso poi lo capiremo anche con le altre sollecitazioni che che vi daremo grazie paolo per questa prima fotografia che ci hai dato claudio a questo punto insomma le aziende devono affrontare tante sfide lo abbiamo già detto quali situazioni e quali sfide sono le principali ti senti di mettere in evidenza diciamo di mettere in pole position e soprattutto che cosa vi chiedono in qualità di partner a livello di consulenza e di formazione altra parola chiave sì grazie diciamo che le aziende vengono da un periodo in cui di grande programmazione della loro attività organizzativa e produttiva non hanno avuto molto modo di farne perché abbiamo avuto dal 2020 ad oggi due momenti di reattività a cui le aziende hanno dovuto prestare attenzione prima la gestione di un'attività lavorativa improvvisamente da gestire in remoto quindi non eravamo abituati e quindi abbiamo gestito quella situazione e le aziende si sono trovate a dover rimboccarsi le maniche da questo punto di vista poi inaspettatamente il 2021 è stato un anno fortemente positivo per molte realtà aziendali e quindi anche quelle politiche governative che erano state pensate per andare a rispondere a un potenziale momento di difficoltà delle aziende in realtà sono andate un po' disattese perché le aziende hanno prodotto hanno avuto degli ottimi risultati molti referenti aziendali ci dicono in realtà il 2021 è andato bene ora si trovano nella situazione di finalmente potersi sedere e programmare un po' diciamo così con un po' più di lungimiranza l'avvenire che cosa si aspettano i direttori delle risorse umane o comunque i manager delle aziende per andare un po' più in profondità nello scorso mese di febbraio abbiamo svolto con direttori risorse umane direttori di azienda di un campione molto significativo di nostre aziende una survey ricca di domande attraverso le quali abbiamo cercato di capire che cosa si aspettano nei prossimi 12 mesi i nostri referenti aziendali diciamo che abbiamo intervistato un campione di oltre 300 aziende sul territorio dove la maggior parte rientra nella fattispecie delle piccole e medie imprese come potete vedere circa il 75 per cento che di fatto rimane sempre il bacino di riferimento a livello industriale e di queste aziende chi ci ha dato risposte sono prevalentemente i direttori delle risorse umane ma anche la direzione generale piuttosto che i titolari della proprietà o comunque altre figure manageriali delegate diciamo che da questo punto di vista sono emerse delle risposte molto importanti le principali sfide per le direzioni char come vedete vanno nel solco di quello che oggi sentiamo e leggiamo sulla sulla carta stampata sui mezzi di comunicazione la riorganizzazione degli ambienti di lavoro la facilitazione di un dialogo di un dialogo tra generazioni nei gruppi di lavoro la promozione di una politica aziendale volta all'inclusion alla gestione della diversity piuttosto che la diffusione di una cultura incentrata sulla sostenibilità da parte delle aziende ma le tre diciamo così risposte che hanno avuto le percentuali più alte vanno nella direzione delle competenze dello sviluppo delle competenze e della creazione di una nuova policy rivolta all'employee experience quindi un equilibrio nuovo tra le esigenze delle aziende in termini di competenze di acquisire ma un'attenzione da rivolgere a ciò che si aspettano i dipendenti dalle proprie aziende quindi non è più solo una formazione ad esempio svolta in chiave top down dove prevale l'esigenza dell'azienda ma il referente del HR deve oggi avere come riferimento un performance management un percorso di performance management che va in quella direzione l'uomo al centro l'individuo al centro e questo parte dall'inizio parte dal momento in cui il dipendente deve ancora entrare in azienda e quindi molti referenti aziendali ci hanno parlato di candidate management di politiche di strategie aziendali rivolte al candidate management e in questo noi li supportiamo tutti i giorni e ci richiedono un contributo da questo punto di vista sì certamente beh quindi il ruolo del del comparto HR diventa veramente sempre più determinante lo è sempre stato ovviamente anzi è sempre diciamo che la sfida è sempre stata quella di riuscire a aiutare i lavoratori dipendenti a integrarsi al meglio nell'azienda ma adesso lo è ancora diciamo che abbiamo avuto un momento in cui dalle HR ci si aspettava un contributo allo sviluppo del business oggi c'è un ritorno allo sviluppo della persona valorizzare come dicevamo prima il capitale umano assolutamente per poterlo sfruttare in senso buono ovviamente concedetemi questa parola ma insomma ci siamo capiti al meglio per il raggiungimento degli obiettivi hai citato il candidate management io a questo punto con paolo volevo ripartire da qui per cercare di comprendere quali sono gli elementi vincenti per una come dire efficace e corretto candidate management si particolarmente interessante questo anche dato al particolare periodo storico cioè questi fattori la ripresa dopo il lockdown i nuovi equilibri commerciali globali ma anche la difficoltà di approvvigionamento nelle materie prime che richiede grande capacità di flessibilità hanno generato una forte dinamica di mercato soprattutto per quelli che sono i ruoli tecnico specialistici per quello che sono i ruoli impiegatizi votati alla gestione di queste flessibilità in questo momento noi come operatori del mercato del lavoro abbiamo sempre orientato i candidati nelle loro scelte ci rendiamo conto di quanto sia importante dare supporto alle persone nel momento in cui si trovano a compiere si trovano di fronte a queste fasi di transizioni credo che la vera sfida per un operatore come il nostro sia dare continuità a questo supporto mi spiego meglio molte sono le transizioni nella vita professionale tengono conto diciamo di quei passaggi migliorativi ma anche di dell'avvicinamento di un professionista magari ad un'organizzazione che abbia più identità valoriale interna rispetto a quelli che sono le sue missioni ma anche che sia gestibile dal punto di vista del rapporto della vita privata con la vita lavorativa ecco è molto importante orientarsi e fare queste scelte in maniera informata e fare anche le scelte più corrette rispetto a quello che è il long life learning questo apprendimento se guidato se basato su dati se basato su una forte lettura di quelle che sono le preferenze delle persone può portare a delle transizioni di successo che portino di fatto a una maggiore job satisfaction una maggiore job satisfaction vuol dire più benessere per il lavoratore e più risultati per l'azienda ecco dobbiamo puntare a questo e noi ci mettiamo nei panni di fatto di una funzione di supporto che può accompagnare il candidato in tutte le transizioni della sua vita i nostri orientatori sono disponibili e si occupano proprio di questo io credo che ragionare con competenza di quello che avviene nel mercato sia fondamentale anche nelle scelte poi di upskilling e di reskilling che sono poi le due parole chiave di questo prossimo futuro diciamo che il primo gancio è capire se effettivamente tutti hanno coscienza di questo cambiamento che è avvenuto nel mondo del lavoro no perché altrimenti in prospettiva soprattutto futura non si può lavorare è ovvio che di giorno da un giorno con l'altro è più semplice tra virgolette però questo poi non porta a valorizzare da una parte a creare una struttura che sia più solida possibile quindi volete rispondermi a questo sia coscienza di quanto è cambiato il mondo del lavoro se ne ha coscienza parzialmente e in maniera molto differente attraverso le generazioni credo che sta emergendo una generazione di venti di venti trentenni che ha una percezione del lavoro abbastanza diversa da quella dei 40 50 anni e però il mondo del lavoro deve essere in grado di accoglierli questi talenti se vogliamo cominciare a limitare il mismatch la fuga all'estero tutti questi fenomeni che abbiamo tracciato e per creare appunto una struttura veramente importante nel nostro paese in italia no che diventi sempre più attrattiva e questo proposito claudio ovviamente si parla di un percorso no fatto di tanti data di tanti step per così dire strategie più efficaci questa è la domanda che volevo farti quali sono per costruire percorsi in linea con da una parte le aspettative delle persone di cui parlavamo prima dall'altra anche che permettano le aziende di rimanere attrattive quindi di non perdere poi il loro focus no perché non non si vuole neanche snaturare quello che è l'azienda immagino anzi renderla ancora più effettiva assolutamente l'hai l'hai menzionato tu la la persona a partire dalla persona è importante che la funzione char lavori sull'individuo lavori sul sui propri dipendenti conoscendo quelle che sono le possibilità le capacità affinché si possa adottare un processo anche di job rotation all'interno delle aziende oggi è molto difficile per le aziende andare a individuare le competenze di cui hanno necessità all'esterno per cui diventano sicuramente molto importanti gli investimenti fatti sul proprio personale all'interno e in questo dopo la pandemia ci troviamo davanti a due momenti a due strade fondamentali da un lato una richiesta di formazione sempre più individualizzata referenti di ciara noi chiedono molto spesso interventi di coaching di accompagnamento individuale per potenziare non tanto le competenze hard quanto le competenze soft delle risorse quindi pensiero laterale pensiero strategico previsionale anche in assenza di dati quindi la capacità di vedere un po' oltre quindi di immaginarsi come potrà cambiare il business dall'altro lato invece l'esigenza dell'azienda di far sì che la formazione non rimanga però parcellizzata al singolo ma crei dei momenti di interscambio cioè meno formazione rispetto al passato non è più pensabile pensare di avere cinque sei giornate dedicate a un corso sulla comunicazione sulla leadership però sicuramente i momenti gli eventi aziendali dedicati a lo scambio delle buone prassi lo scambio delle esperienze fatti fatte dai collaboratori dai dipendenti nel loro lavoro che è ovviamente non possiamo dimenticarci di aver portato davvero sul tavolo un'esperienza importante è fatto anche di relazioni da remoto questo sarebbe un peccato perderlo come bagaglio che ormai abbiamo acquisito quindi come strategie l'hr deve cercare di creare una realtà ibrida una realtà dove la formazione da remoto e la formazione in presenza vadano davvero di pari passo in maniera equilibrata all'interno dell'azienda allora siamo quasi in chiusura però mi piacerebbe chiudere con una domanda che voglio fare entrambi un po più generale no la parola ibrido possiamo anche a mio parere riportarla in una situazione che fa parte proprio del mondo del lavoro attuale e che è cambiata rispetto a una volta è corretto dire però ve la pongo come domanda perché magari è una valutazione errata mia o non propriamente precisa è sbagliato giusto dire che rispetto a una volta quando si tendeva ovviamente a tenersi separato nel mondo del lavoro era una cosa a sé stante la persona la vita familiare tutto ciò che faceva parte insomma anche delle questioni che riguardano la persona però esterna al lavoro non si guardavano nemmeno oggi invece si va in quella direzione lì c'è l'ibrido è fatto è anche qualcosa che ci fa ci permette di conciliare un po tutti gli aspetti della nostra vita però a partire proprio dal lavoro perché lavoro solitamente sempre stato quello che creava più distanza rispetto alle altre nostre agli altri nostri momenti siccome lo diciamo sempre lo sappiamo il lavoro è ciò che ci occupa più tempo nelle nostre giornate no e allora è importante riuscire a farlo combaciare con il resto della nostra vita perché non è solo il lavoro la nostra vita lo possiamo dire anche se no parliamo essenzialmente di hr di tv che dedicata a questo ok allora scusate la domanda un po lunga ma volevo far capire dove volevo arrivare allora claudio paolo direi che la citazione fatta da paolo sulla generazione dei ventenni dei trentenni va in questa direzione nel senso che c'è una classe di lavoratori o comunque di futuri lavoratori che ha dei paradigmi di riferimento differenti rispetto a quelli che potremmo avere io e paolo data la generazione diversa l'equilibrio tra vita lavorativa e vita extra lavorativa diventa un fulcro importante oggi diventa un punto di riferimento per le nuove forze che entreranno nel mondo del lavoro e di questo gli HR devono tenere conto e noi lo constatiamo sia nei percorsi di formazione che nei momenti di selezione durante i colloqui di selezione oggi a differenza del passato di qualche anno fa spuntano le domande ma l'azienda prevede un sistema di welfare prevede lo smart working ci sono dei momenti di queste cose incominciano a comparire si chiede insomma la flessibilità essenzialmente che non è che corrisponde a un lavorare di meno è gestire meglio il tempo è quello il punto mi è piaciuto molto il concetto di ibrido permettimi una battuta è il lavoro che è entrato nelle nostre case data la pandemia cioè ci ha fatto fare un'accelerazione digitale potente oggi ci troviamo ad osservare ex post questo fenomeno e apprenderne magari anche quelli che sono stati gli aspetti positivi degli apprendimenti che abbiamo fatto allora abbiamo ripetuto per due anni quelli più pesanti della pandemia che avremmo saputo cogliere l'aspetto positivo della situazione e questo è uno di quelli dai diciamolo perché altrimenti a volte purtroppo è solo con le emergenze che riusciamo a mettere a fuoco le cose quindi ci salutiamo così credo che sia la maniera migliore però presto ci rivediamo promettiamocelo così insomma cerchiamo di capire anche come procede questo percorso di cui abbiamo parlato perché come all'inizio ha detto è sempre bene dare sì elementi teorici raccontare come la situazione o poi capire come si possano tradurre in pratica quindi insomma abbiamo messo le basi oggi grazie a claudio fortunato responsabile nazionale aperelle formazione grazie a paolo corral responsabile nazionale politiche attive aperelle grazie a entrambi naturalmente e grazie a tutti voi per averci seguiti in questo nostro appuntamento dedicato alle char tv week buon proseguimento